Buonasera, potrete assistere tra poco al film di Peter del Monte, Irene e Irene. Al termine una intervista di Giuseppe Cereda a Peter del Monte. Alle 22.30 andrea l'onda TG3. Alle 23.05 la terza ed ultima puntata di Fratellastri d'Italia, le comunità albanesi. Un programma della sede regionale per la Calabria. Sulla rete 1 trasmettiamo l'undicesimo episodio di Dallas dal titolo Il ritorno di Garrison. Alle 21.35 andrea in onda la quinta trasmissione di Quark, Viaggi nel mondo della scienza. Alle 22.20 per Mercoledì Sport trasmetteremo da Milano una sintesi dell'incontro di palacanestro Billy Squibb al termine del telegiornale. Sulla rete 2 trasmettiamo la prima puntata dello sceneggiato La Medea di Porta Medina dal romanzo di Francesco Mastriani. Alle 21.40 andrea in onda la seconda puntata dell'inchiesta Riprendiamoci la vita. Un giorno, ogni giorno. Seguirà alle 22.25 il telefilm Tutto il verde d'Irlanda della serie I racconti del trifoglio. Alle 23.20 Tg2 stanotte. Ora vai in onda il film di Pietro del Monte, Irene, Irene.